La casina di Gonzaga nasce da un'idea scaturita da un bando del distretto culturale regge di Gonzaga attraverso una struttura che è un'installazione d'arte vera e propria nel senso in cui abbiamo costruito prima di tutto uno spazio in cui si può lavorare molto con la luce, con il suono, con la voce e in questo spazio il pubblico viene praticamente coinvolto a livello emotivo e a livello sensoriale. Il pubblico è accolto da un arlecchino, da un personaggio che interpreta il Tristano Martinelli e viene portato all'interno di questa casa dove all'interno di una grata Camilla fa, racconta la storia, la sua storia quando Ferdinando Gonzaga l'ha sposata per finta e una volta che è a Mantua stanno costretta ad andare in convento. Il mio personaggio è un arlecchino, un arlecchino un po' antico, un po' selvaggio, un po' animale legato alla terra e accoglie il pubblico in questa casina dei Gonzaga. Lo accoglie in un modo appunto un po' irriverente. Questo personaggio parla un gramlo che è un misto tra francese, dialetto mantovano e dialetti lombardi. Io interpreto il personaggio di Camilla Fa che è stata una nobile donna vissuta nel 1600 a Mantua proveniente però dal Monferrato e lei era una dama di corte alla corte dei Gonzaga. Ferdinando era comunque molto innamorato di Camilla, di conseguenza l'ha voluta sposare. Ma questo matrimonio effettivamente era finto, nel senso che il vescovo che li ha sposati non era un vescovo vero e proprio ma era un abbate, di conseguenza il matrimonio non era valido. Quindi Camilla è rimasta incinta di Ferdinando, ha avuto il figlio, è stata allontanata dal figlio, inizialmente è stata spinta a risposarsi, lei non ha accettato e ha voluto invece inchiudersi in un convento di clausura. Racconto questa storia, recito questa storia all'interno di una gabbia. Quindi c'è un gioco di luci, di suoni molto forti. Diciamo, lo spettatore viene coinvolto a livello sensoriale in maniera molto forte.